E' stata giudicata la gara di appalto dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di concilio sito in via Taverne ad Agropoli. A giudicataria è risultata la società cooperativa Anacapri Costruzioni di Giuliano in Campania per un importo pari a circa 170.000 euro. Gli interventi previsti mirano a risolvere alcune problematiche a carico della struttura sportiva che ospita nel corso dell'anno una serie di eventi al fine di renderla più confortevole e funzionale. In particolare sono previsti il rifacimento facciate con interventi di coibendazione e di tipo cromatico, adeguamento impianto trattamento aria, condizionamento, rifacimento linee pluviali con convogliamento acque piovane, pulitura e lucidatura, parquet area di gioco, rimontaggio tribune e parte posteriore, canestri con ampliamento posti a sedere, sistemazione esterna. Gli interventi sono finanziati con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti. La tempistica è di 150 giorni. Non appena saranno concluse le gare sportive ad oggi spiegano dal Comune di Agropoli sia il sindaco Adamo Coppola che i consiglieri Franco Di Biasi e Giuseppe Cammarota. In accordo con le società sportive inizieremo gli interventi di adeguamento del palazzetto di concilio per risolvere alcune criticità emerse negli anni e migliorare la struttura. I lavori mirano a restituire un palazzetto ancora più efficiente e funzionale in modo da poter essere sempre più riferimento del territorio sia per l'utilizzo da parte delle associazioni locali che per l'organizzazione di eventi di rilevanza nazionale. Non appena questo sarà consentito.